posso onestamente dire che veramente c'è siete incredibili oggi sì oggi sì ragazzi ci spacchiamo ci spacchiamo le sdrogocorse veramente piene di divertimento non ci sono le level asian perché oggi con noi c'è un ospite speciale che io non ho assolutamente detto già ieri chi è che è moonride io sono pronto il problema è che stanno aspettando l'altri tu non sei abituato a questo ritardo ma io si vabbè a parte che tanto di visuro non mi si può dire a me di non bestemmiare una stream di un fan eccola lì eccola lì come se la toglieva la patata ci siamo ora c'è qui come due acceleri e le due dei dd di sacceleri faccio lo streamer ma c'è il nostro c'è il nostro forleo merda capito ma benissimo è fluidissimo audio la swinger mi fa un po' cacare devo essere onesto è proprio disgustosa non va eh ma stai fingendo eh ti ammese potresti dire l'ho craccato eh potresti dire l'ho craccato l'ho craccato l'ho craccato grazie uguale a Cino è inquietante ma guarda che lui peraltro peraltro lui gioca anche a Valorant è che grande ma chi è Zazzo il maestro tocca subito a Dobballo no non devi fare così eh no 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 a sto gioco che ne so magari gioca a Valorant no a sto gioco è incesso ma sto facendo sempre ma non è vero a fixare gli orari si andrà a dormire a luna massimo ma non so ma poi non è vero per me fixare gli orari è fare after cercare di stare sveglio fin quando posto non funziona la so perché poi crollo il giorno dopo si fa la seghetta notturna bro vedi che dormi lo sdrogo lo amo la macchina che metto qua c'è solo la ratella ma guarda ma si ma c'è fino all'altro ieri e su questo cazzo di sito pippavano e chiavavano mo GTA è più 18 dai ma non cacchiamo il cazzo io non pippavo ragazzi eh mi distanzio no tu non l'hai sempre fatto stream quello lo sapete però no la ragazzi l'albero porca teiella sei la cosa più inutile che abbiano mai creato in questo mondo ma stai zitto che senza me stavi da solo 24 ore al giorno vai Marzo vai vai fenomeno mi serve della rincorsa di qui mostro porca oddio magari le ammazzano porca oddio ma non arrivare fa come gira da sola la mia è troppo grossa le macchine è più grossa no si mon stiamo tutti andando molto bene c'è solo un pezzo che potrebbe forse legarti un po' di problemi ma se hai fatto 40 kill e l'ultima partita di Warzone ma che cazzo ho fatto ma che ho fatto bro sono bloccato ma com'è ma io non gioco a Warzone tipo da una cosa come tipo due anni ma voglio stare attento è cambiato bro ci hanno messo il 2 dietro all'1 a me piace mi piace saltare da una casa popolare di Napoli all'altra io non riesco non riesco andavanti vabbè ma se se la fate tutti in ultimo potremmo starta un'altra no? no ragazzi non l'ho mai detto la peggior gara fattuale fattuale ok ho capito il re leone vabbè no ragazzi ma perché? perché? beh che c'hanno un comune Totti e Stephen Hawking la capacità mia del gioco a sto gioco entrambi hanno rifiutato il real la magica ma non è vero questo vuoi rispetto per quel coso no no ma è normale ci darne le corsiere soprattutto se ti stai impegnando gran gara questa ci abbiamo una bella imola qui abbiamo non so se lei è fan mi auguro di no che se no nel caso uso l'aggettivo femminile ogni volta che devo fare riferimento a lei non ha capito un cazzo l'ultimo minuto invece è uscita la notizia che Mr Beast sembrerebbe che fosse stato invitato nel sottomarino 5 minuti prima mi hanno detto Mr Beast si era stato invitato al nel sottomarino peccato peccato come sarebbe eh vabbè dai si serviava subito il posto de Mr Beast su YouTube no l'ha distrutto grazie è qui in sordine in Italia infatti ma il service potrebbe passare al canale mio una volta olè morto scaglia 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 tua madre io la affogo con le ciole porco dio che zaffina che stream final fantasy 16 poi rimane nei case popolari probabilmente poi ci vado pure io se faccio un'attesione di questo ma via faccio un'attesione diverti troppo guarda ragazzi ma che cazzo ho fatto eh ho fatto un errore ragazzi ho preso male il box che cosa vi devo dire ma stavo indietrissimo sono passato lì o tu te sei addobbato da solo mi sa se eri la PR4 base si però nella mia visura ti faccio la cripta lo giuro io non ti ho toccato io 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 anzi ti sto dicendo che hai ragione cioè ma lo sai che c'ho ancora l'unghia nera del torneo dell'anno scorso com'è stunghia? come c'è? dai ma c'è 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 la macchina è l'ultima drogocorsa della vita mia eh ragazzi cioè io veramente sono distrutto conoscete uno psicologo buono che ogni domenica mi serve prendi la shotaro munna shotaro shotaro pria la shotaro munna pia la shotaro ah trovata trovata vabbè quella di tronu ma poi lo fanno in un periodo c'è tanta gente lo fanno in un periodo c'è tanta gente a costo su twitch si si oh me levate porco oddio ah no dello stronzo che mi stava stompando prima era il maestro no 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 io stavo stavo solo manuflo no 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 grazie a voi ah ma oggi che se rimani dietro un attimino c'è so tutti i fenomeni cioè vi siete svegliati con le corse nel sangue la grande lobby eh perché stai bello lontano momma ho avuto rallentato un botto red kree red kree mi ha detto che è successo ma se ne qui lo puoi red kree andiamo maestro andiamo vola 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 via vola no maestro guardo mi sto a guardare questo che ti ho fatto fare uno schizzetto ma non lo so in realtà la schizza cosa è più facile sai che ho scoperto il gesto quello che fai del sai cosa significa nel linguaggio dei segni biologia ci sta e io guardo sempre che biologia immagino non lo so non lo so non lo so che ho studiato oggi che c'è la terza ora madonna no ragazzi 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 piano ragazzi mei giugno ma che è possibile ma è lunghissimo ma che cazzo è no ragazzi davvero non mi toccare ti prego no ragazzi no è atroce no è atroce ma devi frenare ma devi frenare come funziona ragazzi ma è bellissima la mossa del jaguaro la mossa del jaguaro la mossa del jaguaro è una mossa del jaguaro è una roba assurda no allora fanno un re il teatro è finita ragazzi ma l'elementari le attaccavate le caccole gli altri ma che schifo che fai c'è un bugiurro ma è bugiurro di merda ragazzi la vendola di moda l'elementari l'americana tipo che uno che uno lo prende l'altro si a voi no che praticamente come funziona l'americana c'erano due ragazzi uno ti teneva le braccia dietro la schiena e l'altro ti tirava tutti i pugni in pancia in faccia da me tiravano da me tiravano però voi siete voi siete più bravi perché da me io per esempio ai compagni gli tiravi compassi non gli tiravo i cazzini quella era grave però io uno gliel'ho ficcato gliel'ho ficcato nel muro perché non l'ho preso se è conficcato nel muro allora poi mi sembra sottiva in classe quando eravamo di stanno quello è il classico no ma che ansia io l'ho uscivo no perché non me si vede comunque dei pantaloni sempre a me io c'ho ma dai ma te chiamalo Dumbo te chiamalo dai se no sai pure quando sito in tipo due secondi e io zì uno dei siti dei forum free più importanti di me sound muted che culo scusate ragazzi sono arrivato un po' aggressivo su un paio de macchine ero io ho capito non eri te mazzo stai già a piangere no ero io ero io perché me ne sono accorto no era rossa e verde e tu hai una tacchina gialla qualcuno ha preso me stai a dire porco dio zì faccio 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 dio cane no no come dio pane ma mi sembra no dio cane proprio dio cane questo stronzo eccoci qua è arrivato ma red kree ancora è mori va mi sai che sono l'unico che non conclude regalo god come god a merda ma sono a merda no per red kree là come si chiama si si svaga la gara dei video prima e mori va regole subito che tragedia le drogocorse preferivo fare i mukbang pure io fammi andare a prendere un dolce prima che mi viene il bug questa che mappa è che tocca fa qua raga è una nascar è questa cosa è già matto circus maximus eccolo raga era l'ausiris 9 no io preso l'ausiris questa mappa il cerchio ovale di roma questa è la mappa dove ogni volta mi incazzo tantissimo sattobbano tutti questa è la mappa è la mappa del primo andavo pesante di forleo ancora me lo ricordo è stato molto umano come si inventano sta non so guarda già il perco di dio guarda il gesù cristo maledetto guarda il gesù cristo se deve essere maledetto ma la mia va più lenta raga sento come sei bucata te sei te lo giuro te lo giuro te lo giuro è un cesto fa schifo è una merda è una merda è una merda è una merda grazie a tutti